Allora, noi portiamo a riparare le scarpe, perché è giusto riparare le scarpe, e poi c'è una donna geniale che lavora sulla bellezza della scarpa, ma soprattutto ha scritto questo libro, Valentina Genovesi, Non ho le scarpe adatte, edito da Longanesi, il manuale pratico ed emotivo per trovare il tuo stile e scegliere le calzature perfette per te. Valentina Genovesi è qua in studio con noi, grazie, ed è un grandissimo piacere. Grazie, grazie mille di avermi invitata. Noi siamo state, soprattutto ci siamo riunite, Valentina, tutte, e parlo per le signore a casa, intorno a questo titolo, Non ho le scarpe adatte, ma uno potrebbe anche avere una scarpiera, non esageriamo, da mille piedi. Perché noi donne diciamo sempre che non abbiamo le scarpe adatte? Perché noi donne abbiamo spesso numerose, qualche volta centinaia, ho visto, in casa delle clienti, veramente, scarpe, di scarpe, però spesso non sono adatte innanzitutto al nostro piede, quindi in termini di vestibilità, e poi spesso anche alla nostra identità, quindi ci ritroviamo usare sempre le stesse scarpe, non so se vi suona familiare, e quelle che ci fanno battere il cuore sono lì nella scarpiera a prendere polvere. Allora, Valentina, io mi permetto di dire direttamente Valentina, è una creativa e super esperta di questa materia, sia chiaro, non è soltanto la questione estetica in sé, perché in questo libro ci sono tutta una serie di tabelle, c'è un modo di pensare la scarpa, come raramente, veramente, noi potremmo avere quattro paie di scarpe, ok? Quattro. Ed è così, io non credo che si debba dare sfoggio di un esagerato numero di scarpe all'interno del proprio armadio, l'importante è trovare quelle giuste, per esempio il periodo autunnale. Eh, questo è un periodo che mette in crisi molte donne, perché siamo nel passaggio, quindi il cambio di temperatura incide anche su alcuni aspetti del piede. Abbiamo fatto tutta l'estate torrida. Il piede sì, aumenta di volume, è un dato oggettivo, e quindi reinserirlo nella scarpa chiusa è motivo, insomma, di stress per il piede. Quindi un momento delicato, il momento in cui si vedono in giro più sneakers, per esempio, ed è proprio per questa ragione. In realtà ci sono diversi modelli che possono esserci di aiuto nel periodo autunnale. Per esempio, abbiamo portato qui una derby, è questa qui, che ha l'allacciatura un pochino più larga, quelle strette sono le oxford, quindi le stringate strette sono le oxford e quelle più larghe sono le derby, che sono un pochino più casual. E sono un'alternativa più formale, più ordinata, insomma, più adatta ad alcuni contesti, per esempio, alla sneakers che noi utilizziamo, no? Cioè, se io ho un tailleur maschile, chiaramente, è ovvio, posso indossare questa scarpa che vediamo in primo piano senza problemi. Ed è un buon compromesso. È un buon compromesso in termini di comfort, è una scarpa che bene o male si adatta alle varie tipologie di piede. Il fatto che sia stringata permette proprio anche, no, di regolarla sul collo del piede, quindi dare la capienza necessaria. Posso? Sì, è una scarpa presa in prestito dal guardaroba maschile, quindi poi in termini di identità, di comunicazione, ancora possiamo sfruttarla, appunto, nell'ambiente formale, nell'ambiente di lavoro, per dare un certo tipo di messaggio. Ma ha questo tacco, il che rende possibile proprio sfruttarla in questa maniera. Esattamente. Ma di che cosa ci innamoriamo noi? Della scarpa, questa non è impossibile, perché questa è una scarpa assolutamente portabile, ma più è alta, più è cenerentoleggiante, più non so che cosa dire, più ci piace. Perché? Perché il tacco, anche se non ne siamo coscienti, porta con sé una simbologia importante legata sicuramente all'aspetto della seduzione, della femminilità, ma anche del potere. Quindi in realtà noi siamo attratte da questo strumento, da questo accessorio che ci permette di esprimere la nostra femminilità, ma staccandoci un pochino. Staccandoci un po' da terra, questo è il senso. E ovviamente, questa la posso chiamare décolleté? Quella è una décolleté nude. È corretto chiamarla décolleté. Pur avendo questo design molto semplice, lo dico da designer, ha una vestibilità complessissima, quindi crea problemi alla base delle dita, a questa punta, che per molti piedi è motivo di grande sofferenza. Sofferenza e dolore. Sì, oppure per chi ha il talone molto asciutto, magro, scivola e quindi provoca le famose vesciche, oppure non ha la corretta aderenza lateralmente. Spesso capita di vedere la scarpa che rimane ampia, larga, ed è un discorso di capienza della pianta. Allora, poi ci sono i kitten heels. Oggi la nostra Sara Cacioppo, la nostra autrice, andava cercando per la redazione chi ha i kitten heels. Noi, ovviamente, che avevamo studiato, sapevamo che cosa volesse dire, insomma. Gatti da gattina. Gattina. Sì, quello significa. Sono tacchi bassi, non superano i 5 centimetri, ma insomma i 4 centimetri alla loro misura, 3-4 centimetri, che sono una buona alternativa al tacco più alto per comunque, no, slanciare la gamba, darci un certo tipo di occhi, però non far soffrire tanto il metatarso. Sono un po' pericolosi perché in realtà in termini di equilibrio non sono semplicissimi da gestire, perché tendiamo a portarli come avessimo una scarpa bassa, no? E non è vero. Non è vero. A meno di non essere Audrey Hepburn, che sapeva portarli. In autunno, e in un autunno che faccia l'autunno, cioè che non sia l'inverno, la scarpa con il cinturino, la scarpa chiusa davanti, con il cinturino dietro, è portabile? Sì, assolutamente sì. Si può fare. È un'ottima soluzione, fra l'altro è un'ottima soluzione perché si può giocare stilisticamente anche con la calza, con il calzino, addirittura sì, quindi è proprio la scarpa perfetta per questo pericolo. All'interno di questo volume, di questo libro edito da Longanesi, dove Valentina Genovesi, che è stilista di scarpe, lo vediamo, e che scarpe, e quindi c'è anche questa scarpa, questa immagine, questo disegno in copertina, ecco, è un mondo quando si apre questo libro, lei svela tutta una serie di cose alle quali noi non pensiamo, cioè per esempio la forma del nostro piede, c'è da studiare, da studiare tanto perché a volte noi ci innamoriamo di scarpe, al di là di quelle col tacco alto, che non sono le nostre. Come mai siamo così attenti ad indossare la taglia 40, 42, 44, il tipo di taglio dell'abito e non lo facciamo per le scarpe? Perché le scarpe, innanzitutto, le scarpe hanno un grande tema che è anche quello proprio della misura, della taglia, per cui il primo problema in cui capiamo è il fatto di non saper scegliere bene il numero, perché culturalmente abbiamo ancora un limite legato al fatto che il piede piccolo è più bello, quindi tendiamo a scegliere scarpe sempre più possibili piccole per avere queste idee, questo è il primo grande dramma. Le sorelle di Cenerento lo dovrebbero insegnarci che, insomma... E per noi è un problema importante, quello della scelta del numero. E poi perché valutiamo il piede come una cosa di cui spesso ci imbarazziamo, quindi lo osserviamo poco, lo studiamo poco, ci mette in difficoltà. E invece è quella cosa che ci tiene attaccate al terreno, che ci dà lo slancio e azione. Caviglia e polpaccio, come dire, importanti. Quando un po' il tuo polpaccio somiglia a quello di Gigi Riva, per esempio, grande campione, campionissimo, c'è un polpaccio che tu abbia bello, solido, però che scarpe mettiamo? Le scarpe più adatte a questo tipo di polpaccio, ma anche a chi ha la caviglia, magari un pochino più importante, sono quelle, come il porto io, con il cinturino sul collo del piede. Ah, lei! Ci vuole il cinturino sul collo del piede? Sì, perché il cinturino, che è una linea orizzontale, attira l'attenzione, blocca lo sguardo di chi ci osserva e quindi intanto lo distoglie dalla caviglia, crea un focus. È geniale questa! Cioè, la scarpa che distoglie l'attenzione! Il segreto non è nascondere, il segreto è creare focus in dei punti che per noi sono funzionali, strategici. E poi libera la caviglia, questo significa che va in continuità il piede con la gamba, il polpaccio sembra più sottile. Sembra più sottile, quindi andiamo tutte di scarpa col cinturino, nel caso ci sia questa caratteristica, ok? Quindi cinturino alto. Sul collo del piede. Sul collo del piede, io l'ho detto che questo libro è da leggere e da tenere. Leggo qui, piede asciutto e pianta stretta. Che detto così sembra una cosa difficilissima invece? Sì, le piante strette per esempio hanno un sacco di problemi con le decoltè che sfuggono, no? Quindi asciutto però significa, non so se avete mai fatto caso, che sono dei piedi che sembrano, a prescindere dall'ampiezza della pianta, sono magri, sono sutti. E hanno bisogno di, al contrario, riempire alcune capienze delle scarpe. Allora, qui veniamo ad un punto che Valentina Genovesi in questo libro tratta vicina, perché è un libro precisissimo. Bisognerebbe prima scegliere la scarpa e poi vestirsi? Le faccio questa domandona. sono un po' di parte però. Eh, vabbè, però... Secondo me sì. Sì. Secondo me sì. Prima la scarpa e poi il resto del look. Sì. È più semplice in realtà. Le case si fanno dalle fondamenta, dovremmo partire da quell'idea. È più semplice? Sì, è più semplice perché la scarpa è già un accessorio estremamente chiaro, no? Da un punto di vista dell'identità. Quindi permette anche, se è una scarpa che ha, no? Un suo significato, di semplificare molto sopra. Certo. Una bellissima decoltè o scarpa sulla quale ci sentiamo comodi ci permette poi di avere un tubino, un abito anche più semplice possibile. E poi c'è un aspetto proprio di praticità. Noi la mattina sappiamo cosa dobbiamo fare, che tempo c'è, quanto ci dobbiamo muovere, dobbiamo star sedute, camminare. Qual è il primo? La prima cosa da fare, anche se ora le chiederò se sia giusto portare le altre scarpe nella borsa, vediamo su che cosa ci promuove o ci boccia. Allora, il piede che si gonfia, il piede soggetto a... Penso alle mamme in attesa, no? Che devono chiaramente portare scarpe comode, il più possibile, e hanno questo piede che può... Non bisogna neanche dire mettiti la scarpa comoda a tutti i costi, no? Una mamma con un bel pancione può avere anche lei la scarpa elegantissima, però... Assolutamente sì, ho portato la decolte fino a un mese di gravidanza, quindi... Vabbè, ma lei non fa questo. Allora no, sicuramente bisogna fare attenzione proprio al fatto che ci sia la possibilità durante il giorno di assecondare questi aumenti di volume, quindi sia le stringate, sia le scarpe che hanno fasce e cinturini regolabili. Lei ha studiato, lei Valentina Genovesi, danza, teatro, ha studiato all'Accademia d'Arte Drammatica e mi ha colpito un fatto di aver messo da parte sua questo termine emotivo, questo aggettivo, qualcosa che emotivamente ci porti a scegliere la scarpa giusta. Ora non tutte passiamo per tanto studio, però che cosa, qual è la forza che lei ha portato via da questo suo lavoro e l'ha fatto poi diventare produzione di scarpe? Io credo che la cosa più importante sia proprio la comunicazione, quindi la comunicazione è anche legata, soprattutto legata agli stati emotivi che possono cambiare nell'arco della stessa giornata volendo, quindi lo strumento, l'accessorio, come può essere in senso più ampio il costume in teatro, sono il primo modo di comprendere il personaggio nella vita di tutti i giorni, la persona che ho di fronte lo riesco immediatamente a mettere a fuoco in base a come è vestito. Valentina, quando lei va in giro, dica la verità, guarda subito le scarpe. La domanda, sì, sì, è la prima cosa che è nota. Proprio se la vedete, se la incontrate, lei abbassa lo sguardo e vi scruta dalle scarpe. E gli spiaggia i piedi. E gli spiaggia i piedi. A proposito dei piedi, allora, il piedino, no? Scusate la nota personale, mia sorella 36, la scarpa di Cenerentola, io 39 e mezzo. Mi sono sempre sentita con i piedi di Pippo, Pippo e Topolino, cioè con i piedi, soprattutto quando ero più ragazzina, mi sentivo con i piedi lunghissimi. Qualora il piede sia lungo, 39 sulla mia altezza, poi alla fine non è il risultato così lungo. No. Ma qualora il piede sia veramente lungo per una donna, che si fa? Si fa quello che ci ha insegnato Chanel, e non l'ho di certo inventato io, l'ho messo in pratica, le punte scure e leggermente squadrate. Le punte scure leggermente squadrate? La scarpa, soprattutto quelle bicolore, che hanno una punta più scura, è leggermente squadrata, quindi magari ecco non lunga a punta, un pochino squadrata, otticamente accorciano il piede. Signori, anzi, i signori sono esclusi, scusate, non vogliamo... Le signore leggano questo libro, l'abbiamo fatto anche noi, per arrivare ad una conclusione. Non abbiamo mai le scarpe adatte, ma leggendo questo libro capiremo come fare a risolvere il problema. Valentina, grazie di essere stata con noi. Grazie ancora. Valentina Genovesi, creativa e gentile. E questa è una bellissima qualità. Ci fermiamo soltanto per un attimo, e poi vi portiamo in un'invasione di sole, luce, e una storia meravigliosa. Qui a Lora Solare, grazie. Grazie. Grazie mille.